Fortunatamente è capitato di mattina ed eravamo svegli ed eravamo qua per fortuna perché altrimenti penso c'erano altri problemi molto più grossi. Dopo la nuova ISA ad andare a fuoco nella giornata di ieri è stata la ditta Anselmi e Codironcade. L'incendio sarebbe divampato verso le 7 di mattina mandando a fuoco una struttura esterna di metallo di 30 metri. Un fumo denso si è subito levato dal capannone facendo temere danni ambientali. Il timore era che dalla combustione delle cerniere e delle serrature realizzate con un trattamento galvanico dei metalli si fossero sprigionati dei fumi tossici. Tanta più che sia perché ci sono cose infiammabili. A fugare i dubbi sulla possibile tossicità della combustione il sindaco Simonetta Rubinato che ha subito contattato l'ARPAV. L'agenzia ha fatto sapere il sindaco, ha assicurato che le sostanze coinvolte dalle fiamme hanno interessato esclusivamente il terreno di pertinenza della ditta senza alcuna conseguenza per l'ambiente circostante.